Bentornati su 360.fluido.tv e questo secondo video dedicato a ConfiUI. Nel primo video abbiamo visto come installare quest'interfaccia di Stable Diffusion per creare delle immagini 360 ma vedremo poi che potremo creare anche altre cose per la realtà immersiva con il nostro sistema di intelligenza artificiale e oggi però andremo a vedere alcuni elementi ovvero l'interfaccia e andremo ad installare anche uno strumento molto utile per l'utilizzo e per l'ottimizzazione del nostro ConfiUI. Bentornati su 360.fluido.tv Continua con questo secondo video dedicato all'intelligenza artificiale per la XR. Nel primo video abbiamo visto come installare ConfiUI, quest'interfaccia a nodi di Stable Diffusion e oggi vedremo sia l'interfaccia come è fatta ma anche aggiungeremo un altro strumento che è molto utile per utilizzare ConfiUI. Il modulo che andremo ad installare è il ConfiUI Manager che ci permetterà di utilizzare e di ottimizzare il funzionamento di ConfiUI. Per installarlo scendiamo qua in basso, ovviamente dobbiamo avere installato Git, se non avete ancora installato Git e non sapete come farlo basta guardare il primo video dedicato a Stable Diffusion nella versione Automatic 11.11. Lì c'è scritto la tua procedura per installare Git. Copiamo in questo caso il nostro comando GitClone, lo sezioniamo e copiamo, poi andiamo nella nostra cartella dove abbiamo installato i ConfiUI Windows Portable, ovvero dove abbiamo estratto la cartella di ConfiUI clicchiamo su ConfiUI e all'interno della cartella ConfiUI abbiamo Custom Nodes. Apriamo questa cartella e adesso che siamo all'interno di questa cartella andiamo sulla barra di indirizzo e scriviamo cmd e premiamo invio. Si apre il nostro terminale e all'interno di questo terminale andiamo a copiare il comando che abbiamo appena copiato della pagina di GitHub. Premiamo invio e adesso va a fare il cloning, ovvero va a scaricare questo elemento ed è stato inserito all'interno della nostra cartella. Come vedete questi Custom Nodes, ovvero ConfiUI Manager, è inserito all'interno della cartella. Torniamo alla radice del nostro ConfiUI e andiamo ad avviare, nel mio caso, come avete già visto nel primo video, la versione NVIDIA GPU. Clicco sul link e attendo che scarichi il software e che si avvii il mio ConfiUI. Clicchiamo su Manager e vediamo che si apre una finestra dove possiamo fare tutta una serie di operazioni. Tra quelle che andremo a fare sarà l'installazione dei Custom Nodes, cioè i nodi, questi che vedete all'interno del ConfiUI, installare eventualmente dei nodi che mancano all'interno di un workflow, ma questo lo vedremo più avanti come fare questa cosa, e poi installare dei modelli, ovvero i modelli che troviamo, che sono a disposizione per generare le nostre immagini. Poi abbiamo la possibilità di fare un update di tutti i modelli e tutti i nodi e anche di ConfiUI. Andiamo a vedere un attimo come funziona l'install Custom Nodes. Clicchiamo qui e vediamo che apre una finestra dove posso andare ad installare i vari moduli, ovvero i vari nodi. Ogni singolo elemento ha un nodo, questo andremo ad installarlo quando avremo bisogno di installare gli elementi per creare l'immagine 360 oppure per creare l'appscale e tutti questi elementi che ci serviranno. Chiudiamo questa finestra, qui se clicchiamo install Missing Nodes, qua viene un elenco, compare un elenco dei nodi che mancano all'interno di un workflow. I modelli, qua abbiamo tutti i modelli che possiamo scaricare direttamente, vedete il Latent Diffusion Super Resolution, il Superscale e i vari modelli che possono servire per creare le nostre immagini. Come vedete abbiamo installato nel primo video la versione 1.2 di Stable Diffusion, il Base Model e risulta installato, mentre gli altri si possono installare. Chiudiamo anche questa finestra, se clicchiamo su Update All fa un aggiornamento di tutti gli elementi, in questo caso ho cliccato ma l'aggiornamento sarà praticamente superfluo perché l'abbiamo appena installato e possiamo vedere anche cosa succede all'interno del nostro UI. Vediamo che tutte le estensioni sono già aggiornate e di fatto mi dice che non sono state aggiornate, non è stato aggiornato nulla, anzi è un errore perché non c'è nulla da aggiornare. Stessa cosa se vado a fare l'update dei Conf UI, è già aggiornato l'ultima versione, perciò non serve aggiornarlo. Chiudiamo questa finestra e andiamo a vedere l'interfaccia, l'abbiamo già vista inizialmente, che è composta da questi nodi, ogni nodo ha dei connettori di uscita e dei connettori di entrata e vengono collegati per creare determinati, per creare una sorta di workflow di flusso. Parte dal checkpoint, passa nel text and code dove c'è il prompt, in questo caso prompt positivo e prompt negativo, c'è un nodo che ha il latent image e poi va nel case sampler, ovvero dove si crea la vera immagine, dove l'atto di creazione viene fatto all'interno di questo case sampler. Anche qui abbiamo dei nodi di entrata e dei nodi di uscita. Per facilitare il collegamento, i nodi di entrata e di uscita hanno un colore simile, ovvero il modello va collegato al modello, latent va al latent e samples e il VAE, ad esempio, è collegato al colore rosso e poi immagini, immagini, il colore blu. Questi sono i colori inseriti all'interno di Stable Diffusion. Questo è il nostro menu dove abbiamo la possibilità di attivare il nostro prompt, ovvero cliccando su Q verrà generato la nostra immagine, ma possiamo avere anche altre informazioni, ad esempio vedere cosa sta andando in questo momento, ad esempio quando vado su Q prompt si vede che sta caricando il checkpoint e sta facendo il load e se volessi, diciamo, non mi piace o devo bloccare, posso cliccare direttamente su Cancel e il processo viene fermato. Possiamo salvare il nostro workflow salvando in formato JSON. Vedete viene salvato questo formato .json e qui possiamo inserire il nome del nostro workflow. Il workflow può essere caricato con il load e una volta che clicchiamo su load viene aperta la finestra dove possiamo caricare, ad esempio, il nostro workflow. Vediamo che qua, in questo caso, abbiamo un nodo mancante. Chiudo questo elemento e andiamo a vedere subito il manager in funzione. Qui abbiamo install missing notes e vediamo che possiamo installare il nodo che manca, viene riconosciuto e viene installato in automatico. Chiudiamo questo, questo è un esempio di workflow per la generazione di video. In questo caso genero video da una singola immagine che viene poi animata, ma questo lo vedremo nel dettaglio, magari in video futuri. Qui possiamo anche fare un clear, ovvero cancellare il workflow e caricare il default, che è il workflow iniziale, che è composto dai singoli elementi che abbiamo già visto prima. Se notate c'è un riquadro blu e questo riquadro blu è il nostro spazio di lavoro. Dovremmo mantenere tutti i nodi all'interno di questo spazio di lavoro, che vediamo è abbastanza grande, però dobbiamo cercare di tenerlo all'interno di questo riquadro blu. Vedremo alcuni nodi che ci permetteranno di ridurre la dimensione di questi, lasciare solamente alcuni elementi per avere poi più spazio da inserire all'interno del nostro spazio di lavoro e inserire nodi che servono per generare le nostre immagini. In certi casi si creano veramente delle strutture molto complesse. Abbiamo la possibilità anche di fare uno share, ovvero possiamo condividere il workflow. I workflow si trovano anche su vari siti, possiamo scaricarli e se l'autore ha dato il permesso di scaricare questo workflow, lo possiamo importare, cioè scaricare e poi importare con il load, come abbiamo fatto prima con il workflow che vi ho mostrato. Questo è tutto per il secondo video dedicato all'intelligenza artificiale per la XR. Nel prossimo vedremo come creare un nostro workflow personalizzato. Iscrivetevi se non l'avete fatto ancora su questo canale, attivate la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video. A breve inizierò anche a pubblicare una serie di brevi Reels, dove andrò a, anzi un mio assistente virtuale, andrà a spiegare i vari elementi e i vari componenti dell'intelligenza artificiale, non solo per la creazione di ambienti o di elementi in XR, ma anche per capire come funziona l'intelligenza artificiale generativa. Grazie. 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 Grazie.